A Cucina.it siamo in quattro, me e mia moglie come avete visto, ma poi ci sono altre due persone che veramente consideriamo altre due colonne importanti di questa attività. Sono Silvia Vargio e Davide Bono, Silvia più esperta e brava a occuparsi di tutto quello che è l'extra food a servire anche ai tavoli, a dare dei consigli utili per gli acquisti. Davide invece è il grande appassionato di gastronomia e lui il nostro esperto che assemble piatti, che propone, che fa assaggiare i prodotti che ha e poi col suo estro cerca anche di confezionare delle spiziosità per tutti i giorni. La cosa bella è che per noi non sono assolutamente dei dipendenti, noi siamo un team di lavoro perché per questa attività è carica di emozioni, di idee nuove solo se tutti lavorano come se stessero partecipando a un progetto e in Davide e Silvia abbiamo trovato due persone attente che credono in questo progetto e quindi fanno parte in tutto e per tutto del nostro gruppo di lavoro.